Conoscere, apprendere, formare, tutto questo è il Learning More Festival e noi di Radio FSC Unimore lo racconteremo in diretta su Twitch e quindi mettiamoci al lavoro! E oggi siamo messi tanto lavoro così tanto che manca quasi un'ora alla fine della prima giornata del Learning More Festival. Abbiamo appena concluso Mezzo Festival che va un po' a raccontare i topic della giornata, i visti da noi ragazzi, abbiamo fatto un po' di programmi, abbiamo fatto un po' di interviste e questo è il momento invece in cui chiacchieriamo tra di noi su quello che è stato un po' il nostro passato, il presente e forse anche un po' del nostro futuro. Vi introduco alle ospiti perché Antonio ci siamo visti fino a poco fa. Inizieremo dalla nostra Alessia e con la nuova arrivata Gaia, saluta, che è felicissima, non vedeva l'ora di venire qui in diretta a chiacchierare con noi. Di cosa chiacchieriamo oggi Antonio? Oggi il tema del programma è a Esculcama, quindi racconteremo le nostre esperienze scolastiche da studenti, liceali, scuole medie, elementari, non conta l'età, ma prima dell'università. Ok, e poi parleremo se tutto va bene anche dell'università. Intanto inizio, dite un attimo da dove venite, le regioni provenienze, dove avete fatto le vostre scuole principalmente, così ci orientiamo. Ok, allora io vengo da Brescia, ho fatto, vabbè, le scuole medie musicali in realtà, questo è rilevante, perché poi mi hanno portato a fare il liceo musicale e adesso studio lingue qua a Modena. Ok, tu Gaia? Io invece vengo da Ravenna e ho fatto il liceo linguistico. Ok, e adesso cosa? Questo faccio infermieristica. Primo anno. Primo anno qua a Modena. Ok, quindi diciamo appena arrivata. Tu Antonio invece dove hai studiato? E se hai studiato, perché questo dubbio ci sorge. Ho studiato, ho studiato la maturità scientifica, liceo scientifico statale Alfonso Gatto, Agropoli, Salerno e scuola media musicale. Hai fatto la scuola media musicale? Sì, sì, sì. Adesso questo sarà un topic allora. Lo sapevo. Assolutamente, sì. Allora io intanto vi chiedo, io è da un anno che ne parlo, io ho fatto le mie scuole elementari in due posti diversi, uno al montagno, uno al mare, a Mirto, ho fatto le scuole medie a Mirto, ho fatto le scuole superiori a Rossano e faccio l'università a Modena. Ho fatto lo scientifico tradizionale, scuole medie tradizionali, scuole elementari tradizionali, quindi tutto nella norma. Detto questo vi chiedo di dirmi il vostro ricordo del vostro primo giorno di scuola elementare. Iniziamo da Alessia. Lo zaino di Elochitti. Zaino azzurro con queste palline andavano di moda. C'erano dei contenitori di plastica con delle palline che facevano rumore dentro. E mi ricordo che avevo una gonna e delle calze che adesso sarebbero veramente un no gigante nel mondo della moda, però andavano di moda. Erano veramente inguardabili a righe, tutte colorate. Vabbè. La domanda è, grembiule sì o grembiule no? Alle elementari non lo avevo, no. Ok, questo è un topic che affronteremo più avanti. Non lo avevo. Gaia, tu? Primo giorno di elementari? Io avevo il mio bellissimo zaino di Bloom delle Winx. Quindi è la preferita tra le Winx? Ovviamente mi sono fatta rossa apposta. Eh sì, è un riferimento a lei. E grembiule sì io, con il mio bellissimo fiocchetto azzurro. E c'era un disegnino sul grembiule? Sì, lo stema della scuola perché facevo la privata. Ah, erano fatti a posto. Ok, questa è nuova, questa è nuova. Tu Antonio, primo giorno com'eri? Io ti immagino così il primo giorno, come ti vedo adesso, elegantissimo, senza gli occhiali. No, io fino ai dieci anni non ho memoria di me. Ok, ottimo. Non so se sia un bene, perché forse non hai dei traumi. Secondo me ho dei traumi. Però direi, sicuramente grembiulino azzurro con, mi sembra, una Formula 1 minuscola. Ok, quindi c'era già il futuro dell'ingegnere. Si è un nuovo posto, probabilmente, e forse io avevo questa smania di cambiare. Mi hanno raccontato di cambiare uno zaino ogni anno, di piangere per avere uno zaino ogni anno. Secondo me in prima elementare avevo quello dei gormiti. Belli. Però non ne sono sicuro, non ho ottima memoria. Ok, quindi l'elementare, la tendenzia delle elementari sono quel posto in cui o ti trovi bene e ti trovi nì, o ti trovi male e ti trovi un forte male in una delle scuole elementari. E nella fase in cui, secondo me, sei così tanto piccolo, per non capirci nulla, a meno fino alla quarta, quinta, cioè non è proprio, non consideri niente di quello che fai, sei un bambino ancora. Poi arriva la quinta elementare che forse è un momento da più, un po' più svegli, diciamo, mettiamola così, dove hai la facoltà di poter dire adesso devo fare le scuole medie. Che poi c'è anche l'esame di quinta elementare, giusto? Ci sono delle prime in fase, c'è qualcosa? C'è un qualcosa? No? Ci sono delle in fase. Ci sono delle in fase elementari. Vabbè, non fanno media, vabbè, sono sempre il fatto. Però comunque, cioè, mi ricordo che era pesante. Sì, sì, io li ti dico con la maestra il giorno delle elementari. Come mai? Perché si era fatta, erano le undici. E hai fame. E quella aveva detto che noi, quella. La maestra. La maestra. Scusate. Perché avevamo tutti una maestra. Una maestra esterna. No, in avere parole. Una per materia. Ok. Un terrore per materia. Una mia, quella di storia. Sì, sì, sì. Comunque questa era esterna. Questa maestra era esterna. Ha detto, no ragazzi, non si deve mangiare assolutamente. Tanto tornate alle 14 e potrete mangiare. Io la guardo, apro la mia merendina. Me la mangio. Molto akab. E lei mi guarda arrabbiata nera, per non dire altro. E io dico, ma io ho il diritto di mangiare. Quindi mi faccia il piacere. Addirittura così polemico. Beh, è una grande dote. Ti è rimasto? No. No, vabbè. È perso. Non devi far più l'akab. Però la maestra con la L maiuscola e anche la M, dal terrore. L'abbiamo avuta tutti. Sì. Che materia faceva? Storia. Storia. Storia? Io non l'ho avuta. Non hai avuto la maestra? No. Il tuo terrore dall'elementare? Ne avevamo solo una di maestra. Per tutto? Per tutto. Tanne che per inglese. Oddio, che cos'è? Come faceva a far tutto? Faceva tutto. Tutto quanto. E se non è roba delle scuole private, però. È l'unica. Poi avevamo anche la suora che faceva religione. Ah, avevate le suore. Perché noi avevamo le suore. Ok. E quella è trauma. Le suore alle scuole elementari è trauma. Eh sì, anche alle medie è trauma. Non so se avete fatto l'asilo dalle suore, voi. No. No? L'asilo è il ricordo più bello della mia vita. Io mi ricordo tutto. Tutto dell'asilo. Anche l'odore della pizza che mangiavo. Ah. Avevate la pizza a scuola. Io ti ricordi bellissimi. Sì. Ma che sono pizza a scuola? Io mangiavo il riso, lo buttavo per... Poi erano i pulcini. Ho cambiato due asili. Come mai? Perché mi sono trasferita. Mi hanno cacciato. Ah no. No, mi sono trasferita. Mi hanno cacciato. Per motivi lavorativi. Anche di mia mamma. Mi ha cambiato un altro. Lei tra l'altro lavorava nel centro sportivo di fronte al mio asilo. Quindi mi hai sempre i suoi occhi. Bellissimo. Quanti gelati. Bellissimo. Quindi mangiavi pizza e gelati. Sì. Bellissimo solo per questo. E questo è il ricordo principale. Io ho fatto il mio quinto compleanno al sushi. Già. Vabbè, sono cose... Questo è un gap proprio geografico tra le nostre scuole. Io queste cose non le concepisco. Quindi tu maestra L maiuscole non avevi, la maestra. Nessun terrore. Quella del pomeriggio. Quindi erano due. No, perché poi il pomeriggio... Si trasformava. Mi immagino che cambiava forma. Sì, non era obbligatorio farlo. Quindi ti facevano fare i compiti e non c'era più la tua maestra. Si era una di un'altra classe. Cattivissima. E come si è sopravvissuta questa maestra? Piangevo così tanto che mi facevo spostare da quella buona. Ah, vabbè. È una cosa che a quell'età funziona tanto. Ora non funziona più così, suppongo. Purtroppo no. Quindi gli elementari finiscono. Qual è la sensazione che avete post-elementari arrivate alle medie? Vi manca, non vi manca? Com'era la situazione? No, per me gli elementari sono stati terribili. Mi hanno proprio tarpato le ali. Addirittura? Io, cioè, quando ero piccola ero super creativa, facevo danza, ero vivacissima. Mi hanno un po' contenuta. Cioè, non mi hanno dato tutta questa possibilità di esprimermi. E quindi no, un bruttissimo ricordo. Le medie, tra l'altro ancora più terribili. Però mi piaceva l'idea di iniziare un nuovo percorso. Poi, vabbè, appunto, iniziavo a studiare uno strumento. Io ho fatto fra l'altro traverso, alle medie. Quindi, cioè, c'era dell'entusiasmo. Ok. Le elementari come finiscono? Bene. Le elementari benissimo, medie è una tragedia. In una stessa scuola o in un'altra? Stessa scuola, stessi compagni, stessa classe. Stessa maestra? No, grande peccato, stessa maestra. No, alle medie è una tragedia. Tragedia? Sì, sì. Cosa è cambiato? A parte la professoressa. Sono diventate le professoresse, spero. O sempre solo una? No, no, no. Avevamo più professori. Ok, finalmente un po' più normale. Però i compagni diventavano un po' più cattivelli. È perché l'epoca in cui sei cattivo. Sì. E non te ne rendi conto ma lo sai. E questa è la differenza. Sì. Erano cattivi, cattivi o...? Sì, sì, cattivi, cattivi. Poi io non ero proprio la super della classe. Quindi... Quindi non te la avevi benissimo. No, no, c'erano le VIP e io non ero talmente. Addirittura? Sì, sì, sì. Vabbè, ma è giusto. Le VIP sono ancora VIP? No, no, no. No, 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 no. No, no, assolutamente. Abbiamo avuto il loro momento di colore all'epoca. Qual è stato il loro momento di colore più grande? Che è VIP alle medie, poi nella vita... Niente, niente. Abbiamo avuto la nostra rivincita. Esatto. Ti senti VIP adesso? No, però... No, però... Meglio di loro. Quelli di sicuro, guarda. Questo è ottimo. Tu come finisci le scuole elementari? Perché non è finita nel miglior dei modi con questa professoressa. Scuole elementari è finita benissimo. Benissimo? Ma sì, a me non manca nessuna delle tre scuole che ho fatto. Perché le medie? Quindi per me una volta che ho finito un capitolo sono sempre felice. Ok. Le medie come le inizi? Le inizio facendo il test per entrare in questa scuola... Il test? Per entrare in una scuola musicale. No, perché avendo fatto il musicale... Fanno provare tutti i quattro strumenti? In che giornata? No, no, almeno non funzionava così. No? Aspetta, vediamo le differenze. A me sono venuti a scuola, alle elementari. Siamo andati in uno stanzino. C'era un pianoforte, uno xilofono... Oh, glockenspiel. Flotto traverso e percussioni. E ti facevano provare per vedere in cosa eri più portato. Stiravano una graduatoria che magari loro guardavano come schiacciavi il tasso del pianoforte piuttosto che se avevi il ritmo nelle percussioni e usciva questa graduatoria. Io ero stata selezionata sia per flauto che per piano. Ma al piano ero oltre un certo numero disponibile, quindi ho fatto l'auto. Ok. Invece tu come andavi? No, da me era molto più teorica. Quindi all'elementari, l'ultimo giorno dell'elementare alla fine, il penultimo, arrivano tutti e sei professori di strumento. Mi sembra sassofono, clarinetto, chitarra, percussioni, pianoforte, corno, tromba... Vabbè, comunque ce ne erano parecchi. Mistico un po'. Mi siedo, mi dicono ciao, ciao. Quale strumento hai scelto? Ho detto io avrei scelto sassofono. E lui mi fa... Però ne hai scelto soltanto uno. Ne dovresti scegliere un altro paio perché metti che non entri. Io lo guardo e gli guarda. Se io entro col sassofono, bene. Se io entro col sassofono, bene è lo stesso. Ma sei sempre su questo modo superante e un po' cattivo. No, sempre insofferente. Vabbè, mi dice dai, ma metti almeno percussioni. Se metto percussioni, mamma, mi caccia di casa. E vabbè, mi fanno fare questa prova attitudinale che non era suonare lo strumento, ma era... Mi facevano leggere le partiture. Mi facevano fare tipo il solfeggio. Quindi tu hai dovuto studiare. Sì, io avevo già suonato un po' il pianoforte. Per fortuna. Per fortuna, contro voglia. Quindi qualcosina ricordavo. Però immagino i ragazzi che sono andati là. Vanno lì per imparare. A dieci anni. No? Che non ti sanno fare nemmeno un po' di solfeggio. Cioè, come si fa? Poverini. Quindi le medie iniziano... Ognuno... Tu hai fatto strumenti le medie? Si fanno? Sono obbligatori? Il primo anno abbiamo continuato flauto che facevamo anche all'elementare. Cioè all'elementare? Sì. E sofferenza a casa. Sì, a casa terribile. E poi abbiamo fatto teoricamente pianoforte, l'avremmo toccato forse una volta. Vabbè, comunque era nel piano di studi, diciamo. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo tutti fatto uno strumento, perché anche le medie ho dovuto fare uno strumento obbligatorio, la chitarra e il flauto dolce, perché credo sia obbligatorio. Il flauto dolce io non lo considererei nemmeno uno strumento. Anche l'elementare, porta rispetto al flauto dolce? Sì. Porta grande rispetto. Ce lo porto il rispetto. Grande rispetto. Ha tolto il dito ai nostri genitori. Infatti ho... Io una me la ricordo, quella di Ligabue. Posso nominare... Non eravamo così avanti. Posso nominare Fabio Vetro. Fabio Vetro. Quello che ci dava i tutorial... Grande. Non l'ho mai guardato. Io ero brava, non avevo bisogno di... Anche io. No, non c'era bisogno di... No, non c'era bisogno di... No, non c'era bisogno di... No, noi avevamo bisogno invece, non ero pratico di sofflauto. E però era figo perché ti dava delle canzoni nomative. No, bellissimo. Ti dava See You Again, cioè ti faceva sentire un po' il canzoni drastico. Cioè capisci, si amano quelle canzoni in più. Quindi abbiamo fatto tutti uno strumento. Sì. Adesso vi chiedo... E poi ritorniamo allo strumento. Il ricordo più ricordo che avete delle medie. Qual è? Gli concorsi. Perché appunto facendo le medie musicali andavamo... Siamo andati tipo in Liguria a fare dei concorsi musicali. Ok. Con... Avevamo un'orchestrina. La chiamo orchestrina perché sì. È un'orchestra rispetto anche all'orchestra. Un'orchestra, un'orchestra. E mi sono proprio divertita. Cioè ne abbiamo anche vinti. Siamo arrivati sempre tra i primi tre. E tipo mi ricordo l'ultimo repertorio. C'era il fantasma dell'opera. Figo. Abbiamo fatto dei brani bellissimi. Ma te è piccolissimo. Bellissimo. Sì, sì. Bellissimo. Ricordo più ricordo delle scuole medie? Io non mi ricordo niente. Ottimo. Ottimo. Lei ha nebbiato. Cioè mi ricordo che non mi sono piaciute. Mi ricordo di essere stata felice quando le ho finite. Ma non ho altri ricordi. Non hai altri ricordi. Da una parte è bene, da una parte è male probabilmente. Ma torneranno a un certo punto quei ricordi. Sono anche i ricordi brutti. Cioè le notti passate a piangere nel letto con mia mamma perché io geografia non me la ricordavo. E poi i pianti in classe per quella gentilissima maestra che mi ha fatto passare le pene dell'inferno. Io mi lasconevo in bagno per non farmi interrogare da lei. Perché lei estraeva. Perché esistono le estrazioni? Quelle somme strane con le pagine. No, è proprio l'estrazione con la letto. Sì, oggi che data è, cavolo, ero io. Io ero sempre l'uno, quindi non uscivo mai. Io uscivo, non uscivo mai. Questo è un dramma che abbiamo vissuto. Io abbi con la... Sono sempre stato il primo in ordine alfabetico. Però è una gioia secondo me. Poi l'ho capito dopo che era una gioia. Perché eri consapevole. Sì, nelle somme non uscivi mai. Quella era la roba top. Ricordo più ricordo delle medie. Io di te ho paura. No, diciamo mezzo trauma. Ah, è un trauma tu. Mezzo trauma. Ma era molto divertente. Hai creato il trauma o... No, 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 non ho creato nessun trauma. Era il concerto di fine anno in terza media. Quindi era l'ultimo dei concerti con l'orchestra interna. Da me c'erano due orchestre. Cioè, più orchestre. Una per ogni anno. E poi c'era l'orchestra interna che era quella... Diciamo, vabbè, quindi erano più bravi però... No, non era proprio così. Quindi, oltre a sonar il sassofono contralto, mi avevano dato anche il sassofono tenore. Che era lo strumento più grande perché... Forse fisicamente, forse anche perché era un po' più bravino. E avevo un assolo. Il balzer di Shostakovich, il numero 8. Adesso approva. Avevo questo assolo. I e Gaia no. Avevo questo assolo. Siamo fuori da questo mondo. Vabbè. Na 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 na. Vabbè. Ne so quanto prima. Sì, andiamo avanti. Va bene così, va bene. Pessimo al telegato. Vabbè, avevo questo assolo. Lo soltanto che era scritto male. Nel senso che c'era una nota che il sassofono tenore non poteva suonare. Cioè, era un dato di fatto. Non poteva suonarle. E quindi il professore mi disse, metti c'è una pausa. Ma una pausa di un sedicesimo. Un ragazzo di terza media, un bambino di terza media, quanta ne possa avere di fare una pausa di un sedicesimo? Vabbè, fatto sai che a tutte le prove io la sbaglio. Ok. E nessuno? Lui, il mio, come dire, il direttore d'orchestra è molto, come dire, molto passionale. Ok. Mi fa trascinare molto dalla musica. Diciamo così. E praticamente al concerto di Finiano io ero consapevole del fatto che l'avrei sbagliato. Vabbè, mentre lo suono, ovviamente, nella prova generale era andato bene. E vado a fare il concerto, arriva il passaggio, lo sbaglio. Il professore, cioè il maestro, il direttore d'orchestra, mi guarda e fa proprio... Prende la bacchetta davanti ai genitori. La spezza. Cioè, 500 persone, fa così. Spezza la bacchetta. Avrebbero denunciato a quest'epoca. Eh, decisamente. No, no, hanno riso. Hanno riso. E tuoi? Un po' meno. No, hanno riso anche loro. Anche loro? Sì, sì. E tu? Tu piantone, dai. No, no, non ho pianto. Però ho detto... Ho detto una parola. Dai, la dici la verità. No, ci sono rimasto male. Ho piantito male, il mio piccolo cuore si infranto. Perché tu eri consapevole sin dall'inizio. No, ero consapevole, però sai, c'è sempre la speranza. Anche perché... Magari hai fatto così. E poi alla prova generale è andato bene. Dato dai, questa è una volta buona, ce la puoi fare. E invece, eccomi qua. E rimani un po' deluso. Comunque mi hai fatto venire in mente un'altra cosa con la bacchetta. Io avevo un insegnante di storia dell'arte alle medie. Interrogava alla cattedra una persona in piedi. Aveva nel cassetto un mattarello e un matitone. Cioè una matita proprio grande. Che tirava fuori per minacciarti quando sbagliavi la risposta. Non credo sia accettabile questa cosa. Ma le utilizzava. Li tirava fuori per minacciare. Poi era pelato. Gli si gonfiava la vena in testa perché era impiazzato. Giuro. Terrore, panico. Quindi passiamo dall'ingoscienza, ma dall'essere un po' più stupidi delle scuole medie alla parte in cui dovremmo essere sia superiori noi mentalmente che superiori a livello scolastico. Come è stato il cambio? Cioè voi venite... Tu hai cominciato sul mondo musicale. Ok, quindi magari... Sì, la realtà era simile. Sempre lì vicino. Però no, io mi sono spostata in città. Ok. Quindi io ho fatto pendolare per cinque anni. Beh. Sì, quindi prendevo il treno. Il treno? Metropolitana. Sì, sì. Metropolitana. Erano venti minuti di treno da Paderno Franciagorda a Brescia. Metropolitana... C'era metropolitana? C'era... Facciamo due fermate per arrivare in piazza. Non sapevo. E poi dalla piazza camminavo dieci minuti per arrivare al liceo. Ok, quindi era una bella sfecchinata. Quello clima non è... Però mi mantenevo attivo. No, in inverno, quando tornavo a novembre con la nebbia, non riconoscevo il mio paese. Ok, quindi capitano. Mi ha aiutato molto proprio a svegliarmi, a maturare questa cosa. Cioè, l'ho fatta magari prima di altri ragazzi che lo fanno all'università e ti dà una bella spinta. Però, chiaramente, anche dalle medie, da quando ti preparano le medie al liceo, c'è una netta differenza. Tantissimo. Ok, quindi qua abbiamo visto l'esperienza da pendolare di Alessia, però è rimasta nello stesso ambito. Tu hai continuato invece con il... Liceo linguistico. Come mai questa scelta? Perché la prof d'inglese mi aveva detto che non ero brava in inglese. Volevo dimostrarle. Ah, quindi come sfida, professoressa. Ok. Per me è stato scoprire un mondo nuovo. Bello o brutto? Diverso. Diverso, ok, ottimo. Diverso. Perché noi eravamo sempre gli stessi all'elementare, alle medie, alcuni anche all'asilo. E alle superiori era una scuola pubblica, un mondo nuovo, regole nuove, potevo mettermi jeans strappati. Perché c'erano queste regole che... Eh sì, perché era una scuola di suore. Quindi... Ah, è una scuola di suore. Ok, ok, ok. Niente jeans strappati, niente pantaloni aderenti. E quindi ero scioccata quando sono arrivata. E arrivare nel ventunesimo secolo? Sì, sì. Con i film? Sì, sì, sì. È tutto diverso. E la scuola quando ti stava? 20 minuti di autobus. Ah, beh, dai, ok. Quindi... Ma io ero fortunata, mi portavano in marcia. Ok, ottimo, ottimo. Quindi il bus non te lo sei vissuto per tanto? No, no, solo al ritorno ogni tanto. L'arrivo com'è stato? I primi dieci giorni com'è stato? Anche conoscere persone nuove? Ho iniziato la prima superiore con un piede rotto. Ah, ottimo. Vabbè, è un ottimo modo per farsi ricordare. Sì, infatti ero ricordata come la ragazza delle stampelle. Ok. E ti è rimasto tutti gli anni? Eh, un po' sì. Un po' sì. Vabbè, diciamo che rimane. Tu hai cambiato totalmente l'area, poi. No, alla fine era scuola media musicale, soltanto che il pomeriggio ci stava lo strumento. Ma allora l'ho fatta anche io musicale, scusatemi. Ma non è musicale, è una scuola media normale. No, 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 io facevo fatto il traverso. No, il pomeriggio avevo gli appuntamenti con il maestro di sassofono. Eh, lui faceva sassofono. Avevo gli appuntamenti il pomeriggio, ma comunque ero una scuola media normale. Eh, allora dillo. Ma non è musicale, è un indirizzo musicale. Eh, ma non suonare il mio strumento. Per chi voleva, ma è obbligatorio. Allora, più. Ero chi faceva il corte di teatro. Allora hai fatto il musicale. Non ho fatto il musicale. Hai fatto l'indirizzo musicale. Chiamerò mia madre tra poco. Chiamerò mia madre tra pochissimo, dopo vi aggioro. Non la chiamo in diretta perché non vorrei disturbarla e non accetterebbe. Però, arrivi in un'altra scuola. Come va? Quanti compagni ti porti alle medie? Otto. Otto? Ah, eravate un bel gruppo. Otto su 24, sì, sì. No, eravamo proprio un gruppaccio. Vabbè, adesso ci siamo disconosciuti tutti. Vabbè, ma questo fa parte del percorso, questa è una domanda che vi farò molto più importante. Come arrivi? Dieci giorni? Come sono stati i primi dieci giorni? Ma... Normale. Normale. Cioè, era veramente una... La solita storia. Un po' di paura. Come la solita? Ma sì, ma perché alla fine della giornata... Mi aveva scontato. Mi metteva veramente ansia. Sì, vabbè, l'avreste messa nuova. Io non l'ho dormito il giorno prima. Anci io. Io non l'ho dormito il giorno prima. E poi tu ti chiedi. Io il giorno prima ho dormito benissimo. Poi manco ti giri per salutare, capito? Però, dai, non posso dire niente di particolare. Quindi dai primi dieci arriviamo poi agli ultimi. Però vi chiedo adesso... Le superiori sono fondamentali. Voi non... Poi voi avete vissuto tutti in epoca diversa col covid. Sì. Voi avete fatto i stessi anni, quindi vi siete fatti quale anno? Terzo, quarto. Secondo e terzo. È come se non avessi fatto il liceo. Cioè, nevolato il tempo. È sì, perché è la parte fondamentale. Tu invece hai fatto il primo... Ho fatto primo, secondo e metà del terzo. Quindi hai fatto solo due anni totali. Sì, la quarta superiore è stato il primo anno davvero a scuola. Però secondo me è stata più fortuna tu che loro. No. Non so. Noi ci siamo conosciuti davvero seriamente in quarta superiore. Però, voi dalla vostra avete avuto le introduzioni più grandi. Cioè i diciottesimi? No. I diciottesimi io me li sono beccati tutti. Vi siete fatti. Sì, io li ho beccati ma non sono andata. No, io li ho fatti tutti. Quindi li hai fatti tutti. Allora, avevo fatto calcoli male io, scusatemi. No, perché il quarto, metà quarto, siamo rientrati alternati. È vero? Sì. Ah, ok. Comunque abbiamo... Ok, ok. No, io penso che fossero totali i blocchi. Ma per me è stato tra l'altro un panico perché facendo il musicale dovevo registrare con un kit audio il brano che suonavo. Io avevo la scheda audio. Fare la videochiamata, sì. Bellissimo. Ma perché noi facevamo anche tecnologie musicali? Io avevo la scarlet. Ah, bello. Abbiamo fatto le colonne sonore, cose varie. Però è proprio il peso di dire devo fare la videochiamata. La connessione non c'è. Come fa lei a vedere quello che faccio io con le dita? Cioè, panico. È stato bruttissimo. L'ultimo anno adesso vi faccio... Opetta, va tutti alla gita di fine anno. Io non sono andata. Tu non sei andata. Io non sono andata. Tu non sei andata. Tu l'hai fatta. Il mio professore di scienze mi disse, Antonio, Amatucci, sono il responsabile del turismo per le gite. Allora, perché non fai tutte e otto le mete possibili e stabilisci anche le gare d'appalto? Cioè, io ho fatto otto mete. Tu cosa centravi in questo? Perché non posso dirlo in camera. Però, ovviamente, sono stato il delegato dal professore perché, giustamente, non posso dirlo in camera. Detta così... Non è reato. No, è reatissimo. Ok. Ovviamente, sai com'è? Un professore che ha quella responsabilità di elega uno studente, sai? Vabbè, dato che avevo questa grandissima idea di lavorare, mi fa, va bene, devi fare otto mete, dico i due all'estero. Vabbè, io dico, professor, ovviamente noi andiamo in cita a maggio. Sì, Amatucci, basta che lo fai. Io in due giorni avevo pronte tutte le otto mete. 15 viaggi, otto mete possibili. Abbiamo a che chiedere. E nulla, non siamo andati in cita. Non siamo andati in cita. Quindi nessuno di noi ha fatto la gita delle superiori. Non siamo andati in cita. Io mi sono rifiutata. Anche io. Tu l'hai fatta la gita delle superiori. Ah, uno ce l'abbiamo. Tu l'hai fatta, beh, tu eri... Dove? Tu l'hai fatta. Due ne hai fatte. E in quinto. Tu ne hai fatte due in quinto. Quattro in quinto. Eh, sedici. Sì, vabbè, il tuo quinto, il mio quinto e il tuo quinto. Io potevo farla in terzo e quarto, c'era il covid. Ma tu dove sei andato alla fine anno? Io non sono andata. Ah, chi è andata? Io in quarta l'ho fatta. Dove? Io in prima. Sono andata in Francia, abbiamo fatto Nizza. Eh, capito. Sì, terribile, terrificante. Siamo dimagriti tutti almeno 4-5 chili perché non si mangiava. Comodo. Ma poi in Flixbus. Beh, è comodissimo. Fighissimo. Mi prendo l'aereo e vado dove vuoi. In prima liceo. Fighissimo, ma c'è il team. C'è la compagnia. Noi la mattina facevamo lezioni. Da me l'unica quinta che ha viaggiato si è fatta 24 ore di traghetto per andare in Grecia, senza una stanza. Ma è fighissimo se ti trovi bene con la tua classe. Esatto. Vabbè, questo è giusto dirlo. Però è un'esperienza che fai solo a quell'età perché dopo quell'età non la reggi più. Sì, nel senso è difficile che ti metti. Io mi faccio i viaggi col pullman, però 24 ore di pullman con adolescenti non direi leggiore adesso, ma non con i miei coetanei probabilmente. Quindi nessuno ha fatto la gita qui. Io volevo sapere qualche momento perché eravate gli unici secondo me di aver fatto gita. Vabbè, niente. E questo è l'ultimo argomento. Quindi avevamo detto che comunque al superiore non sono state perfette per tutti, in senso è normale anche perché poi diventa quella l'epoca in cui non si è adulto ma inizia a prendere le prime responsabilità. L'epoca di 18 anni è fondamentale. Poi ognuno di noi è riflessiato a modo suo. Ognuno di noi, cioè, veniamo da una cultura di 18 anni molto particolare, magari noi del sud. Un matrimonio. Che diventa un matrimonio praticamente. No, non lo... Tu no. Io sempre no. Ah bene. Ma lui secondo me è sotto sotto e del nord. Ma sì, ma questo... Sì, è un po' sì. Grazie. Però io ho fatto 18 anni nei castelli. Ok, ho fatto 18 anni nei castelli. Come veri matrimoni. Anche io. Sì, sì, sì. Ah, quindi le fatti. Sì, però il mio proprio 18 anni. No, no, il tuo. Però i 18 anni tipici. Mi hanno boicottato tutti. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, comodo. Quindi è quella fase di lì che stai crescendo, non sei cresciuto, sei indeciso. E poi arriva la scelta universitaria. Quindi qua adesso vi chiedo come siete arrivati a scegliere Modena? Il finale è già scritto perché siamo tutti qua insieme. Quindi come hai scelto Modena? Come è successo? Io la cosa di cui ero certa era che volevo spostarmi. Proprio andare a vivere in un'altra città. Ma per il fatto che appunto avevo già fatto cinque anni svegliandomi presto, tornando tardi, perché facevo il pomeriggio anche al liceo, quindi ho tornato tardi. E quindi ho detto no, io a Brescia non ci voglio stare, voglio proprio cambiare aria anche per trovare uno stimolo in più. E avevo pensato inizialmente a beni culturali. Ho detto boh. Non mi piace. Mi piace, ma psicologia, ero straconvinta, ma se senti poi le esperienze degli altri è un percorso lunghissimo, infinito. Ho detto no, ok, lo scarto. Sono arrivata a lingua perché mi piaceva tantissimo in inglese, la mia insegnante di inglese era bravissima, mi ha fatto proprio appassionare. Poi in italiano pure mi piaceva, quindi come percorso mi poteva interessare. Ho scelto Modena perché volevo terza lingua e volevo il cinese, quindi per non andare alla Ca' Foscari, dove facevi solo lingue orientaliche. Ok, è un po' tumace, dici. Sì, per me almeno sì. E poi a Venezia non ci sarei andata molto volentieri. E poi aveva anche il percorso economico-giuridico, quindi è una cosa un po' più completa. Tocca a te Gaia. Io volevo allontanarmi da Ravenna perché aveva iniziato a starmi un po' stretta e quindi qua c'è la nonna. Eh beh, dici giustamente, c'è la nonna. Sì, e quindi... E come sta andando a Modena per ora, visto che tu sei... All'inizio è stato difficile, anche per me, anche se ho la nonna qui, non è stata facilissima. Però adesso mi piace, mi trovo bene. Complicato, non complicato, come l'avevi? Complicato perché qua le state sono difficilissime. Ma questo quindi è anche l'alimentare verso il traffico, giusto? Sì, sì, terribile. Perché tu guidi anche a Modena, possiamo dirlo? Sì, da poco... Poco hai preso la patente? No, da poco guida a Modena. Da poco guida a Modena, ok. Sì, sì, non mi piace. Non ti piace, meglio casa, su questo punto di vista. Sì, sì, sì. Però per il resto sta andando bene come città, ti ha accolto bene. Sì, sì, sì. Tu Antonio? Sentiamo, perché secondo me qui torna il grembiule della prima elementare. Sì, giuro che, come dire, però deve essere il meno sentimentale possibile. No, puoi piangere. No, vabbè, Modena è stata alla fine l'unica scelta possibile, faccio ingegneria del veicolo. Quindi alla fine la mia testa è, o faccio veicolo, non ho mai pensato di fare meccanica. Ho detto, sinceramente, o faccio veicolo, o faccio veicolo. Nel momento in cui ho scoperto l'esistenza, dell'esistenza di veicolo. Perché sono qui? Era l'unica opzione possibile, quindi la domanda secondo me diventava, perché hai scelto veicolo? Questo è perché quando ero piccolo, alle scuole elementari, l'unica cosa che ricordo è che il sabato uscivo presto. Cioè, anzi, uscivo sì, uscivo due ore prima, tipo intorno alle undici. Mi venivano a prendere sempre mio nonno, che ora non c'è più, e in realtà è venuto a mancare quando avevo sui otto anni. E andavamo sempre, prima di andare a pranzare a casa dalla nonna, ci fermavamo sempre ai negozi dei giocattoli. E sull'uscio c'erano tutte quante le macchinine in vendita, quindi ci mettevamo a scegliere quale macchina comprarmi quel sabato. E quindi, poi quando è venuto a mancare, mi sono reso conto che forse, anche poi crescendo, l'unico momento di contatto che c'è tra me e lui è proprio il veicolo. Quello è il veicolo. Quindi sì, è stata questa la motivazione. Quindi possiamo dire, prendendo il tema dei veicoli, che le nostre diverse strade si sono incrociate su un'unica autostrada, quella di Unimore in questo caso, e vedremo dove andremo sicuramente. Questo è il motto, voi non vuoi. È stato divertente. Com'è andata, Gaia? Meno peggio. Ah, si è divertita anche Gaia. Non so se ripeterò l'esperienza. Nabbè, mai dire mai. No, ma sì. Detto questo, io vi ringrazio, vi ringrazio tutti, siamo divertiti. Tra pochissimo, vedete, tra pochissimo, di qualche minuto, ci troveremo qui su questi schermi con, diciamo, l'Alfa e l'Omega della giornata, ok? Si tornerà a questo programmino. Siamo divertiti, ci vediamo anche domani con High School Kama. Tema città. Tema di una città. Tema di una città. Ma vedremo. Quale città? Quale, indovinatela. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie mille. Ciao. Ciao.